Il 3-4 dicembre del 1949 il Partito Comunista insieme al Partito Socialista, allora si disse il Movimento Democratico Nazionale, organizzò quattro assise per la rinascita in quattro città del meridione che furono Matera, Crotone, Salerno e Bari. In queste quattro città si faceva il punto della situazione per quanto riguarda l'incipiente lotta per la terra e si lanciò proprio in quell'occasione lo slogan, la terra a chi la lavora. Quindi praticamente è come se il Partito Comunista e il Partito Socialista si rendessero promotori di invitare, di invogliare le masse a organizzare le masse contadine e bracciantile ad andare ad occupare i feudi, soprattutto in queste regioni dove il feudo era presente. In quell'occasione queste assise furono preparate da centinaia di assemblee comunali in tutti i paesi dove forte era il Movimento per la Terra e dove molto forte era la presenza anche del Partito Comunista. si organizzavano le assemblee e in queste assemblee i braccianti, le donne, portavano i cosiddetti caglieri d'oleanzi, i quaderni delle richieste, cioè sui quaderni loro portavano casa per casa e raccoglievano scrivendo così come potevano scrivere loro a quei termini, con la mano incerta della scrittura dei semi-analfabeti, scrivevano le richieste, cioè che cosa mancavano i comuni, che cosa chiedeva la gente che venisse cambiata e trasformata e questi furono i quaderni che vennero poi presentati dai rappresentanti di queste assemblee durante le assise. purtroppo non c'è nessuno che allora abbia conservato poi materialmente questi quaderni che pur sono esistiti perché ne ha parlato la Stamma Nazionale, ne ha parlato l'Unità, la Vande e gli altri giornali, però i quaderni da qualche parte furono distrutti, furono chissà che fine hanno fatto, però la loro esistenza è certa e documentata. In quell'assemblea quindi si profilò subito la grande richiesta del movimento, cioè la terra a chi la lavora e infatti subito dopo, nei comuni dove più forte era il movimento, si cominciò a organizzare i cortei per andare ad occupare i feudi. a Montescaglioso si scese dal paese, scesero turbe immense di braccianti, di proletari, di donne e uomini che andavano a occupare le terre demaniali dapprima, una zona del paese che si chiama Treconvine, lungo il bradano e lì naravano la terra, la seminavano, la picchettavano e cominciavano a dividerla per l'assegnazione individuale, se non che la polizia poi interveniva. e ci furono degli scontri e il 19 dicembre a Montescaglioso addirittura ci fu il blitz delle forze dell'ordine della polizia che di notte arrivò mentre i braccianti, la notte non stavano mica sulla terra, tornavano al paese, arrivarono camion carichi di poliziotte, tolsero la luce al paese e cominciarono ad andare porta per porta a prelevare i dirigenti del movimento contadino, delle lotte, soprattutto i dirigenti comunisti. e naturalmente a questo tentativo della polizia si oppose fermamente la massa dei lavoratori, soprattutto le donne. Nei tafferugli che sono seguiti in questi scontri e parcellari fra polizia e lavoratori di Montescaglioso c'è scappato il morto, allora fu ferito mortalmente un bracciante che si chiamava Giuseppe Luello e morì dopo pochi giorni in ospedale. Ci fu una serie di arresti, soprattutto donne, che furono portate in galera e poi processate. ci sono tracce di queste cose sui giornali dell'epoca con fotografie di queste donne, una che si chiamava Suglia. Ecco queste erano le donne che noi dovevamo approfittare per intervistare quando era il momento. Non abbiamo avuto neanche qui la lucidità di capire che dovevamo farlo finché eravamo in tempo. ci siamo stati colpevolmente assenti in questa ricerca, cioè non abbiamo amato la storia di cui eravamo stati in fondo protagonisti. Andando a altri cortei, oltre a quel di Montescaglioso, altri cortei sulla terra, altre occupazioni si sono avute nel metapontino, da Bernalda, da Montalbano, scendevano così cortei immensi di braccianti, di lavoratori senza terra, a occupare le terre del barone Berlingieri e lì toglievano i cartelli su cui c'era scritta riserva di caccia e ci si piantavano i cartelli, dice questa terra è del popolo. Nel momento loro li piantavano di giorno, poi arrivava la polizia alla sera e li toglieva. Il giorno dopo però si tornava a fare la stessa cosa. Il movimento fu un movimento organizzato. Per la prima volta, ecco, la cosa che dobbiamo capire, per la prima volta il movimento diventava organizzato. Non erano più esplosioni di lotte contadine che avvenivano qua e là, di collera contadina contro il potere, quando si assaldavano i municipi, si bruciavano le carte, ma era un movimento politico organizzato. Questa volta c'erano i capi, i dirigenti comunisti, che poi fra l'altro erano dirigenti che si erano formati e si stavano formando nel vivo della lotta, quindi non erano dirigenti che venivano dalla scuola del partito, erano dirigenti che venivano dal vivo della lotta, si stavano formando allora e infatti dopo quelle lotte tanti di questi dirigenti restarono a dirigere chi il partito, chi le camere del lavoro, chi l'alleanza contadine, eccetera, si era formata una classe dirigente. E la cosa che bisogna sottolineare appunto fu questa che non si trattava più di un movimento spontaneo, ma di un movimento organizzato. E le direttive di questo movimento erano venute, direttive diciamo così organizzative ideologiche, erano venute fuori dalle assise di cui parlavo, le assise per la terra del 3, 4 e 4 di dicembre. E tutto il resto poi è storia che bisogna considerare all'allume di quello che accade dopo, c'è la democrazia cristiana, il governo che furono costretti a fare la legge per la riforma, la legge estalcia di riforma fondiaria, quindi l'esproprio di alcune migliaia di ettari al feudo, non solo di Berlincini ma di altri agrari, di altri feudatari e furono assegnati agli assegnatari, quindi il processo di riforma fondiaria che si avviò allora con tutte le conseguenze che conosciamo. Però già prima nel 1946 erano avvenute dei fatti importanti, qui a Matera c'era stato già un movimento per la terra, i braccianti contadini erano andati ad occupare le terre dei maniali e allora il prefetto Ponte, che allora tenete conto che siamo al 1946, la reazione c'era un governo di unità nazionale, c'erano i comunisti al governo, il ministro dell'agricoltura era Fausto Bullo e il prefetto Ponte emanò due decreti in seguito e in virtù di questo movimento, due decreti che furono chiamati appunto i decreti Ponte, con questi decreti decretava che alcune regole per agevolare l'immissione di questi braccianti non nella proprietà ma nella gestione della terra e costringendo i proprietari al rispetto di alcune regole per dare lavoro a questi braccianti.